Qualcuno un giorno mi disse che con un ago si può anche scrivere La prima volta che ho provato, beh, è stato un disastro Tuttavia passo dopo passo alla fine ce l'ho fatta E con quel lago che credevo pungesse e basta Ho riscritto il mio presente e forse anche il mio futuro Grazie a tutti